Ustioni su torace, braccia e collo, il ricovero d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Caffoncello, viste le lesioni e l'avanzata età. È grave un 83enne di Serravale di Vittorio Veneto che stamane nella sua abitazione ha tentato di accendere la stufa a legno in cucina con l'alcol, ma la fiammata di ritorno, come spesso purtroppo accade, l'ha investita ustionandola. Il dramma poco dopo le 7.30, le urle dell'anziana hanno fatto scattare i soccorsi e l'allarme. L'83enne è stata medicata dai sanitari del SUEM, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.